all'inscrutabile gatto domestico, l'animale che condivide la tua casa, il tuo divano e molto probabilmente il tuo cuscino quando pensi di non vedere. Sì, conosci i suoi modi, quel modo particolare in cui ti guarda quando vuole mangiare, come fa, le fusa quando è contento e quel miagolio speciale che riserva solo per te. Ma quanto conosci davvero il tuo gatto? E lui? Quanto conosce l'essenza del tuo essere? Ma intanto, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e spunta la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. Guardiamo oltre l'ovvio. Va bene, sai che il tuo gatto ama quel particolare tipo di croccantini al salmone o che fea le bizze per una certa marca di lettiera, ma andiamo più in profondità. Hai mai notato, ad esempio, come Fluffy sembra avere un orologio interno incredibilmente preciso? Se ti svegli alle 7 del mattino per 5 giorni di fila, scommetto che al sesto giorno Fluffy sarà lì, pronto a saltarti sulla pancia esattamente alle 6 e 59. Non hai bisogno di un allarme con un gatto in casa? E poi ci sono quei momenti di pura connessione, quando vi guardate negli occhi e sembra quasi come se potesse vedere dentro la tua anima. Certo, potrebbe semplicemente cercare di ipnotizzarti per avere del cibo extra, ma preferisco pensare che ci sia qualcosa di più. I gatti, con il loro sguardo penetrante e le loro movenze eleganti, sembrano avere accesso a una saggezza antica e misteriosa che noi umani possiamo solo immaginare. Ah, e parlando di movenze, hai mai passato del tempo a osservare il tuo gatto mentre si muove per casa? È come una piccola ballerina. Ogni movimento è calcolato, ogni passo è preciso e quando fa un salto sembra quasi che sfidi la gravità. C'è una grazia in tutto ciò che fa, anche quando decide di buttare quel vaso costoso dal tavolo. E sì, probabilmente lo ha fatto apposta. Perché? Beh, lui è un gatto e i gatti fanno ciò che vogliono. Parlando di fare ciò che vogliono, hai mai considerato il fatto che il tuo gatto potrebbe avere dei piani segreti? Non nel senso di conquistare il mondo, anche se, onestamente, non lo metterei oltre loro. Intendo piccoli progetti e giochi che mette in atto quando non guardi. Magari ha una collezione segreta di elastici che ha rubato dalla tua scrivania, o forse ha un punto di osservazione segreto da cui ti spia mentre pensi di essere solo in casa. Con un gatto non si sa mai. In tutto ciò c'è una cosa che emerge chiaramente. Mentre noi passiamo il nostro tempo a cercare di conoscere i nostri gatti, loro effettamente. Conoscono le nostre abitudini, i nostri orari e persino i nostri stati d'animo. E anche se a volte può sembrare che si comportino in modo distante o indifferente, la verità è che ci amano in un modo che forse non capiremo mai del tutto. In definitiva, la relazione tra un umano e il suo gatto è un'affascinante danza di comprensione e mistero. Mentre noi cerchiamo di decifrare il loro linguaggio e le loro abitudini, loro sono lì, pazientemente ad aspettarci, amandoci incondizionatamente per ciò che siamo. E anche se potremmo non conoscere mai completamente il nostro gatto, possiamo essere certi di una cosa. Lui ci conosce e ci adora. E in fondo non è questa la cosa più bella di tutte. Bene, finisce qua questo video. Mi raccomando se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, lascia un bel like a questo video. Noi ci vediamo nel prossimo. Ciao e a presto!